Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video E oggi siamo qui con la Indovina la bevanda challenge Naturalmente saremo tutti tutti Bendati Così, cucù E abbiamo qua le nostre bevande Abbiamo visto il video di scherzi di coppia Dove dovevano indovinare La bevanda Che appunto bevevano E noi però faremo una variante Una difficoltà in più Perché mischiremo ben due bevande Tra queste qua E poi dovremmo indovinare appunto la bevanda Oggi che abbiamo qua? Abbiamo qua la ceci E la lina E anche le bevande La coca, la fanta, la sprite La red bull Abbiamo un soda E salutiamo anche scherzi di coppia Sì, ciao ragazzi Un bacione gigantesco E anche al nostro cane Aleo, ciao leino Ciao Ragazzi abbiamo preso spunto dal vostro video Ma noi lo facciamo un attimino leggermente più complicato Già E per dire che possiamo cominciare Sembra di fare ma rischia il gusto Eeeh E chissà cosa uscirà fuori poi Rischia il gusto delle bevande Sì Vediamo chi indovinerà di più Vai Possiamo cominciare adesso finalmente Ora ragazzi venderemo E il nostro papi marco Ci metterà dove vanno su scelta Nel nostri bicchieri Ok, vediamoci raga Dove sei? Adesso ci fa uno scherzo Questo qua Ci sta bene questo Mamma mia Questo Sì direi Sento già odore di qualcosa Potete bere Dov'è il mio bicchiere? Davanti a te Ok, ci do la mano È questo? Il mio? Ok Ma voi stai già bevendo? Che velocità Mamma che puzza Ma come va sta roba? Beh, odore A me è sprite No, fa puzza proprio Allora ragazzi, secondo me È aranciata e sprite No, a me sembra sprite No, aspetta Sprite e acqua brillante Sembra cicca la menta Allora Secondo me è Quella lattina alla mente Limone Sì Perché la mente si sente molto E Sprite Secondo me raga sprite e aranciata Sprite e acqua brillante Per me sprite e la bevanda Quella te Quella Limone e Menta Possiamo guardare? Guardate Pepsi E latte E latte E latte Il molementa Il molementa Ma dai Non ci credo Io pensavo fosse aranciata Io pensavo fosse sprite Tu mi vedi dentro il molementa Esatto Quindi hai dominato? No, no Sono a uno Eh vabbè meglio di niente Sono a uno Eh no Sì Sono a mezzo A mezzo A mezzo Io ho proprio canato Tutto Eh, sta la macchina bene Io non l'abbiamo Io sì Ok, parliamo con il secondo round Non vedo l'ora Yeeey Per forza Sei bendata Cosa c'entra? Adesso che non vedi l'ora Dai Su È vero? Non vedo l'orario Hai ragione Raga? È stato sentendo la bevanda Ah ok Abbiamo le due bevande ragazzi Oh madonna Bene Io so il primo gusto Ma il secondo Ma io ho percepito Percepite Percepite pure Madonna Io il primo non lo so Ma lo so Grazie No ragazzi È quello che penso Allora Ah io lo so Sembra mandarino Allora ragazzi Pepsi e Chinotto Io ho già capito Chinotto Raga Secondo me Pepsi No aspetta Chinotto E Oddio Cos'è che era quella bevanda lì Che non mi piaceva Limone e menta No Allora Chinotto e acqua tonica No io sto pensando Cosa potrebbe essere Aspetta Il mio bicchiere Secondo me Chinotto e acqua tonica Per me Chinotto E Mente e limone Secondo me Chinotto e menta Per me Allora Chinotto E quella bevanda Nella lattina azzurra Acqua brillante Acqua brillante No secondo me Allora Secondo te Lysa Limone e menta Chinotto Ok Chinotto e acqua tonica Chinotto E acqua brillante Giù le pende Chissola No Red drip Acqua tonica La tonica è indovinata Mezzo punto per Luca! Si! Mamma che colorito! Che colorino! Sembra uno! Sembrava davvero Chinotto! E anche secondo me io sembrava Chinotto! Sembrava Chinotto! Ok raga partiamo con il terzo round! Ok siamo carichi carichi! Io sono spenta qua! Sei tutto spento! Ma per forza sei sopra la band cosa vuoi? Che ci sia la luce! E luce fu! Attenzione ragazzi! Si comincia a versare! Io lo so il primo! Il secondo forse! Andate! Ma no scusa aspetta! Mamma mia ma cos'è? Ah! Chinotto è acqua brillante! Anche secondo me Chinotto è acqua brillante che schifo! Chinotto si sente! Chinotto è acqua brillante raga l'acqua brillante! Eh non lo riconosco! Chinotto è acqua brillante! È schifo! No veramente Chinotto è acqua brillante! Ah Chinotto ce li sicuro e questa volta non ci freghi! Si davvero! Madonna! Per secondo! Secondo me acqua tonica! Per me acqua tonica! Eh cos'è? Giù le vende! Si! 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 Ma io non lo sapevo che fosse acqua brillante! Ma l'acqua brillante! Uno l'isa uno Luca e mezzo la sceci! Io uno e mezzo! Ho diventato prima la sceci! No Luca ha due! Adesso è uno! Mezzo! Neanche! Ho diventato il chinotto quindi mezzo giusto! Ok ragazzi siamo pronti per il quarto round! 4 round! 4 vogliamo solo quattro Ragazzi si versa aspettate però ad annusare Pronti via via Dov'è il mio bicchiere? Qualcuno mi ha aiutato dove il mio bicchiere? Tella pesca? C'è sicuro? Tella pesca si L'altra non so cosa è Oh Tu hai successo, Lisa? Ha sensato qualcosa che faccio schifo proprio Allora laga qua c'è qualcosa di muore Tella pesca è qualcosa Tella pesca c'è qualcosa di muore allora Lemon soda No secondo me è Tella pesca E non è acqua brillante ma è acqua tonica Ok Cici per me è Tippада pesca E qualcosa con il limone Quindi secondo me La lemon soda Anche secondo me Giura bene Grande Lukey Yes Grande Isas Perché siamo pronti per il quinto round Quinto round Ok vediamo Pappiamoci il nasino Sì dai Via Ok Ok Mamma mia Questo sicuramente è acqua tonica Aspetta io uno Vediamo Sprite Sì anch'io Sprite Aspetta No io vado sulla lemon soda In acqua tonica Sprite o lemon soda Sprite No perché lemon soda l'abbiamo usato al primo Prima limonata Quello lì Permute di limone ecco Sì perché Diverso Per me Sprite e lemon soda Sprite Prima scelta Prima scelta Nel Lemon soda e acqua tonica Io cosa ho detto lemon soda Sprite 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 Yeah Sprite Sprite Non dominato raga Bravo Luca Perché ho andato meno a esclusione Perché Anche se le volevi che usare Vabbè I gusti diversi Comunque si usano Provato la casa ragazzi E' molto buono Sprite E primo sale No aspetta Prima sprimento di limone Prima sprimento di limone Ok ragazzi Sesto e ultimo round E metteremo tre bevande adesso Visto che è l'ultimo round Mi sento carico Tre bevande Io mi sento più carico del più carico Io oggi non bevo più Sono a posto Non bevi più per due anni Ok Ecco che arriva il vostro barista Il barista Quanto? Sono tre E sono queste tre Attenzione Andate con l'assaggio Via Non l'avevo trovato Mamma mia Allora si sente? Ah io lo so Rani sente un odore Stranissimo Che schifo Sembra medicina Mamma mia Io ne so due Ma l'ultimo no Allora che schifo Allora c'è l'acqua brillante Sicuro perché l'ho sentita Sì A me è Red Bull Chinotto e Allora raga Acqua brillante Red Bull E l'altro è buono Ah io Acqua brillante Red Bull E Chinotto Acqua brillante Red Bull E aranciata Acqua brillante Red Bull Sprite Giuro vende L'abbiamo indovinato Io? Dai Acqua brillante Era l'acqua tonica Ma non ci credo Noo Guardate Red Bull e l'acqua tonica abbiamo Acqua brillante Abbiamo indovinato Rani siamo stati dei grandi Bella storia Sì però la Red Bull si vede Ma la Red Bull Ragazzi direi che per questo video può essere tutto Mi raccomando fateci sapere nei commenti Se provate anche voi i testi bellissimi mix E mi raccomando iscrivetevi a A Instagram e a Facebook mi raccomando eh Qua sotto in descrizione Con la che mi chiamo Lucas Gym Web Boom E attivate la campanellina Che fa Drinla Andate ad iscrivervi al secondo canale di Lucas Gym Web Che si chiama Tube Music Brava lilla La musica gratis Giusto Che possono scaricare come vogliono loro E potete usare anche nei vostri video Uè raga Un brindisi gigante a tutti voi Sì E Ciao belli